Amici di canalecaccia.tv, ve l'avevamo promesso, prima abbiamo fatto un'intervista a Tiziano e adesso abbiamo Antonio davanti ai nostri microfoni. Allora, con Tiziano abbiamo parlato di una doppiattina meravigliosa, abbiamo parlato dell'arma fine, qualche volta la gente pensa che non ci si può avvicinare ai fratelli Poli. Allora, i fratelli Poli che cosa si sono inventati? Si sono inventati un'arma che è sempre fratelli Poli, in questo caso abbiamo un sovrapposto e penso che sia anche questo un 410, chissà come mai, no, le producono di tutti quanti i calibri ma i piccoli calibri loro se li intendono in maniera particolare, che ha una particolare caratteristica. Io partirei subito dal prezzo Antonio. Allora, il prezzo di questa arma, innanzitutto buongiorno e vi ringrazio e sono orgogliosissimo di aver partecipato a questa bellissima secondo me fiera, bellissima veramente sotto tantissimi aspetti. Vi ringrazio a nome mio, a nome di Andrea e di tutto lo staff di Fiera Show che organizza Cacciavilla. Grazie a voi per la gentilezza e l'ospitalizzazione. Ci fa piacere questo. Veniamo a noi, niente, abbiamo deciso di presente. 1.500 euro. Ecco, avete capito, è una Poli, è un sovrapposto Poli 1.500 euro. Perché sono voluto partire da quello? Perché chiaramente voi producete anche armi da 20-25 mila euro però la qualità rimane intatta. È chiaro che avete limitato i fronzoli lasciando la classe di quest'arma. Te la lascio adesso. Allora, in quest'arma qua 1.500 euro senza strozzatori arriviamo a un massimo di 1.650 euro. Cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di produrre questa arma. La consistenza, la produzione, la finezza, i materiali sono sempre gli stessi però dov'è che siamo riusciti a ridurre un po' i costi? Nell'incisione, che abbiamo preferito fare un'incisione laserata e nell'applicazione del calcio. Sempre un legno in nocia però è stato laserato e gli zighini non sono più fatti a mano, sono fatti a macchina, però ecco, sono contento e orgoglioso di presentare comunque sia un Napoli un buon marchio diciamo con un prezzo. Questo fucile è un 410 Magnum testato alle massime pressioni, va bene per i colombacci, va bene per i tordi, lo si può avere su misura? Certo, in questo caso il calcio su misura no, però riusciamo ad accontentare il cliente nelle 3 o 4 pieghe e poi soprattutto con gli strozzatori monogrillo o bigrillo la differenza non cambia. Ecco, io penso che siamo giunti ad una qualità molto elevata pur mantenendo secondo me i prezzi ad un ottimo livello, come dico sempre, la Poli è sempre stata abbinata a Poli alto livello, prezzi altissimi, è vero ma però ho voluto marcare in questa bellissima fiera, ripeto, a portare anche un prodotto in rapporto qualità prezzo secondo me un ottimo livello. È vero anche che i brutti vizi non ve li perdete perché se uno va a vedere l'eleganza di questi legni che qui siamo a un grado 2, 2,5. Esatto. Per cui quando c'è l'imprinting di un certo livello, la bascola in questo caso è in Ergal? La bascola no, è in acciaio. Ah, in acciaio. È cromata. Ok, addirittura mi dava l'idea. È messa su Ceracol, la ceramica, la si può avere nel verde o non si può avere questo, diciamo, una finezza. Però ecco come potete vedere. Anche i vizi, dicevo, appunto non si perdono perché anche se l'arma ha un prezzo contenuto le finezze di Casapoli rimangono tutte, l'unghiatura qui. Poi diciamo che quando uno è abituato comunque a lavorare in un certo livello, in un certo standard, è difficile togliere la qualità e la finezza anche nei prodotti diciamo meno costosi. Cioè il mio povero papà mi ha sempre detto, e questo lo ripetono sempre, Antonio non guardare le ore perché le ore di lavoro, perché alla fine quando presenti un prodotto non ti contengeneranno mai le ore, ma guarderanno il prodotto. Io e mio fratello, i miei ragazzi, il mio staff siamo abituati a fare tante ore a mano e non guardiamo il tempo che ci si impiega per far nascere un'arma. Io sono andato a trovarli, abbiamo fatto anche dei filmati, li trovate all'interno della loro playlist, andateli a vedere perché è veramente veraviglioso, mandateli a trovare, se non li potete andare a trovare andateli a vedere su internet fpa.fratellipoli.com e andateli a vedere tutta la gamma dei modelli. Oggi questa novità per la clientela del centro-sud Italia presentata qui, torno a ripetere, 1500 Euro ma è un Poli. Abbiamo la leggerezza, la finezza, la garanzia meccanica anche garantita 10 anni, cioè non è poco su un prodotto di questo livello. Bene. Tiziano. Antonio. Sì, Antonio scusa, io ti ringrazio, no perché ti volevo dire, Tiziano è stato molto furbo, hai capito, qualcuno ha presentato, la boppiettina con la rifinitura in oro tutta e a te pensai di farti un torto presentando questo, invece noi andiamo orgogliosi di tutte le armi che escono a casa Poli. Noi siamo una grande famiglia e perciò va bene tutto. Va bene tutto, glielo perdoni. Ok, grazie di nuovo per la disponibilità. Grazie a tutti voi. Grazie.